il tavolo c'è l'arrivo ora c'è la tua a te vede su o di oh no oh no oh no e puro venia che è me no no ma che c'era da il sordio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Cosa che ha detto che non sono andati a prendersi. Cosa è una cosa? Cosa fa con rielo, non si fai bene. Si non ha detto che compite il bacino. Non ha detto che lo vengono a prendersi. Non ha detto il bacino. Non c'è una scola. Que valessi e se preparò fare? Il nostro corso www.mesmerism.info Il nostro corso www.mesmerism.info